Tutto pronto a Bormio per la discesa libera di Coppa del Mondo in programma giovedì. Oggi è stata prudenzialmente annullata la seconda prova cronometrata sulla pista Stelvio che torna ad ospitare gli uomini jet dopo tre anni, durante i quali la gara si è svolta sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva. Il tracciato era stato ripulito della neve fresca caduta in abbondanza durante la notte, ma gli organizzatori locali e i responsabili della Federazione Internazionale hanno deciso la cancellazione per la scarsa visibilità nella parte alta della pista. Nella prima prova cronometrata svoltasi a Santo Stefano, azzurri in grande evidenza, miglior tempo per Peterfield davanti a Christophe Nerofer, quinto Dominic Paris. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto per la mattinata di domani. Il programma resta così inalterato, con lo start alle 11.45. Nella cerimonia di consegna dei pettorali stasera è stato ricordato il discesista francese David Poisson, morto durante un allenamento in Canada il 13 novembre.